70 anni di vicinanza, la banca che serve ieri, oggi e domani. E questo è il titolo dell'iniziativa che si è svolta nell'ex tabacchificio di Pestum per celebrare il settantesimo anniversario della costituzione della BCC di Capaccio Pestum e Serino. Un evento non solo celebrativo, ma che partendo dall'esperienza maturata nel corso di una lunga storia, ha offerto stimoli e proposte per immaginare come si può migliorare il presente ma soprattutto il futuro. Soddisfazione nelle parole di Rosario Pingaro e Giancarlo Manzi, rispettivamente presidente e direttore della BCC di Capaccio Pestum e Serino. Questa banca ha fatto tanta strada, ha accompagnato il territorio in una crescita importante sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Siamo contenti di dove siamo e oggi con questo evento non vogliamo autocelebrare la BCC di Capaccio Pestum e Serino, ma sottolineare l'importanza del credito cooperativo, quindi di tutte le banche di credito cooperativo, di tutti coloro che sono protagonisti di questo movimento straordinario. Una serie di tavole rotonde hanno lanciato numerosi spunti di discussione analizzati dai vertici nazionali e locali del credito cooperativo, ma anche da docenti universitari, istituzioni e tanti giovani soci, sempre più protagonisti delle attività della banca e del territorio. Questo dimostra quanto il rapporto, l'enzima del credito cooperativo sia importante, soprattutto in territori di carattere rurale. Qui ancora abbiamo agricoltura, abbiamo allevamento, abbiamo la proiezione della vecchia cassa rurale artigiana, poi modificata con i servizi più innovativi quali quelli dati appunto dal gruppo bancario e creativo. Grazie alla forza dei gruppi bancari cooperativi riusciamo ad essere competitivi con i servizi, con i prodotti e di fatto quindi proseguiamo un percorso storico che qui si sviluppa da 70 anni, in altri contesti ha superato il traguardo dei 100 oppure dei 140 anni. Sono 140 anni che il credito cooperativo va avanti così, deve essere capace di non cambiare il modello ma di associare a questo modello tutte quelle che sono le innovazioni che oramai richiedono anche i nostri clienti e i nostri soci.